e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere il numero 8 della naruto tvd collection con il titolo questioni vita o di morte con gli episodi al numero 50 56 in copertina abbiamo uno dei tre ninja leggendari ovvero jiraiya andiamo ad aprire il dvd vi ricordo che questa collana di dvd di naruto è formata da 32 uscite e io la porterò al termine perché praticamente naruto è il mio uno dei miei anime preferiti ecco qua naruto qui abbiamo la copertina naruto stagione 2 episodio 50 56 di vd 8 questione di vita o di morte qui abbiamo il retro qui il numero degli episodi il titolo qui abbiamo alcune immagini del cartone animato e poi abbiamo varie informazioni andiamo a vedere l'interno e anche il poster dedicato al maestro giraia l'eremita dei rospi ed eccolo qua con lo sfondo viola bellissimo questo qua questo poster per adesso è uno dei migliori che abbiamo ricevuto in questa collana andiamo a richiudere il poster e qui abbiamo il dvd e questo ragazzi era l'unboxing del numero 8 di naruto dvd collection mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli